Adesso nasce un'associazione, si chiama Interinali Senza Gloria, per rappresentare un po' quella che è la situazione che va avanti da tantissimi mesi, perché era inverno. Il quadro attualmente qual è? Il quadro è un quadro di stallo, così come da sette mesi a questa parte, perché ricordiamolo, noi siamo in protesta, c'è il presidio di fronte al comune dal 9 di gennaio e tuttora viene portato avanti da nostri colleghi. C'è stata la settimana scorsa la sentenza d'appello dove la cosa più importante di tutto è che è stata riconosciuta la nullità dei contratti posti da Attiva S.P.A. a Camillo D'Addario, quindi la tesi che noi portiamo avanti da tempo, ovvero che questo fosse nient'altro che un surrogato di un contratto a tempo indeterminato, è stato confermato anche dalla Corte d'Appello, prima in primo grado e poi dalla Corte d'Appello. Davanti a questo contrasto giurisprudenziale noi riteniamo che è necessario promuovere un ulteriore grado di giudizio davanti alla Corte di Cassazione, la quale già nel 2013 ha avuto modo di affermare che alle società in house per l'appunto si applica la sanzione, quando viene accertata la nullità del termine, della conversione. Sono valutazioni che adesso ci riserviamo insieme all'Avvocato Alfani di effettuare nei prossimi giorni, ci sono 60 giorni di tempo per promuovere il ricorso per Cassazione e questo lo faremo nel rispetto dei termini processuali.